Oggi si ricomincia, Boris, mi raccomando, eh. Se fai 3 su 5, prendi Ferretti con sta cosa farà il cavo lavoro. Se no, la merda è come sempre. Ma hai visto la piattaforma cosa ha fatto scrivere qui a Cilecittà? Ferretti sogna Fellini. E tante Ferretti. La scenografo di Fellini, premio Oscar. Le sceneggiature devono avere quello che si dice il lock. Se non hanno il lock, la piattaforma non entra proprio nel progetto. Noi lunedì iniziamo a girare! Come a girare? Sono tornati. Lazzaro, alzati e cammina per distruggere Disney+. Stan is from Nazareth. Questa è la folla che accoglie Gesù a Gerico. Dovano essere 40 persone. Sì, non pare una folla. Pare una cena, Diego. Una cena a Gerico. Questo è spoiler. Voglio un altro sacco! Voglio un altro sacco, faccio un casino, René! Voi se ne volete la bambina e il capitano, di Caprera, degli occhi del cuore, io vedo l'algoritmo. Non manca la diversità! San Tommaso di colore. San Marco cinese, più inclusione di così. Diversità anche nella truppa. Diversità. Sessuale. C'è razzismo sul vostro sacco. Sei cinesi? No, sono italiano. Ti scuso. Stop! Mariano, ho visto che ti sei leggermente mosso. Joshua! Dammi stupide! Boris 4. Una serie originale. Dal 26 ottobre in esclusiva sul Disney+. Tornato. Influenza! Grazie a tutti.